Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video destinazione di oggi madonna di campiglio adesso stiamo raggiungendo il punto di partenza per iniziare questa gita sarà un giro d'anello dopo vi spiegherò esattamente il percorso che varemo a dopo ciao niente oggi proviamo la bici elettrica, l'ebbrezza di guidare una bici elettrica mai guidata in vita mia, il poppet e anche i do si prende, fantastico, niente oggi siamo dalle parti di madonna di campiglio e la gita di oggi è abbastanza impegnativa perché abbiamo circa 16 km di camminata da fare e un giro d'anello da fare e vedremo all'incirca qualche rifuso adesso non so esattamente quanti però va bene ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, niente ragazzi prima che voli in terra ci vediamo dopo grazie a tutti grazie a tutti eccoci, primo rifugio casinèi, primo rifugio casinèi, c'è poca gente, mi dicono bene, primo sentiero raggiunto, ora tu che? e andiamo buon rischio, è pieno, è un po' di bambino e qui, non sono state, ma ormai è in una nuova 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 nuova, non fredda a farlo, però anche se ci sono in realtà il secondo rifuso della giornata del nostro Giro d'Anello e l'arrivati, spettacolo che bello Bene, proseguiamo con il nostro giro, terzo rifuso della giornata per il Giro d'Anello vedremo dove andiamo Bene, adesso avventuriamo in queste specie di gole all'interno del Grand Canyon sono negli Stati Uniti, no non è vero che bello, spettacolare wow, oh la è successa anche meglio dato che inizia il sole qua in mezzo non è vero non è vero, non è vero, non è vero ed eccoci arrivati anche al terzo rifuso, l'ultimo dei tre dal Giro dei Rifusi di oggi sulle Dolomiti del Brenta come vedete è in fase di ristrutturazione, stanno rifacendo il tetto c'è qua un po' di gente, dunque noi proseguiamo ancora un attimo vediamo se troviamo un posto per fermarsi e mangiare a dopo ecco a voi le Dolomiti del Brenta che spettacolo comunque rettifico quanto detto prima mi hanno riferito che sono stato un po' troppo superficiale nella descrizione della salita perché comunque sì, io dico che è facile, non è molto impegnativa come salita ovviamente il mio livello di allenamento è un pochino avanzato è esperto se vogliamo valutarlo con le classifiche varie e niente, dunque allenatevi prima di salire ciao ragazzi